Motocast è un'applicazione gratuita esclusiva di Motorola che garantisce l'accesso sicuro ai contenuti multimediali del tuo PC. È possibile ascoltare i brani preferiti della propria collezione musicale e sfogliare gli album fotografici direttamente sul telefono, senza bisogno di caricamenti preliminari sul cloud. Scegliere Galleria o Musica dalla barra delle applicazioni, quindi Continua. È ora possibile procedere all'impostazione di Motocast. Scegliere Motocast, quindi Configura ora. È possibile utilizzare un cavo USB oppure scaricare e installare il programma Motocast dalla pagina www.mymotocast.com. Verrà richiesto di effettuare automaticamente il download dal telefono. Motocast è accessibile sia da Mac che da PC. Una volta completata l'installazione di Motocast, impostare l'accesso remoto per ottenere accesso a tutti i file ogni volta che lo si desidera, quindi scegliere Avanti. Scegliere la creazione di un account Motocast con un ID e una password sicuri. Quando si crea un nuovo account, verrà richiesto di fornire nome, cognome e indirizzo e-mail, nonché di digitare una password per il nuovo account, quindi scegliere Avanti. Una volta creato l'ID Motocast, scegliere per effettuare l'accesso. Da qui sarà possibile decidere quali cartelle, file, brani musicali o video si desidera condividere con lo smartphone. Scegliere Avanti. Dopo avere completato l'installazione di Motocast, tornare al dispositivo e selezionare Installazione su computer completata. Effettuare l'accesso a Motocast, immettendo il proprio indirizzo e-mail e la password, quindi scegliere Avanti. Scegliere Fine. È ora possibile accedere ai contenuti multimediali dalle applicazioni di gestione di file, musica e raccolte. Sarà ad esempio possibile effettuare lo streaming dei propri brani musicali o scaricare la propria playlist preferita. Dalla barra delle applicazioni, spostarsi sull'applicazione musica, selezionarla, quindi accedere a La mia raccolta. I brani musicali inviati in streaming dal computer vengono visualizzati con l'icona di Motocast a fianco. Per scaricare brani nello smartphone è sufficiente tenere premuto e selezionare Scarica brano. È possibile visualizzare le immagini e i video più recenti direttamente sul telefono. Nella barra delle applicazioni, scegliere Galleria. Selezionare Motocast e scegliere il contenuto che si desidera visualizzare. A questo punto è possibile scaricare le foto e i video sul telefono. Mantenere premuto e selezionare Scaricare. È inoltre possibile accedere ai file più importanti, anche se non si sta utilizzando Word. Dalla barra delle applicazioni, selezionare File. Scegliere la cartella Computer Motocast e quindi il file da visualizzare. E scaricare nello smartphone. Alle funzionalità di accesso a foto, file, musica e video, si aggiunge quella di poter visualizzare o riprodurre i contenuti su uno schermo grande. Un'opzione di grande praticità. È possibile utilizzare Motocast insieme all'applicazione WebTop di Motorola e raddoppiare le opzioni possibili. Con una singola connessione è possibile visualizzare qualunque contenuto del computer domestico su qualsiasi schermo HD. Realizzare una presentazione, condividere il video più recente, connettere una tastiera e lavorare su quella stessa presentazione. Tutto è possibile combinando Motocast con WebTop. Dalla condivisione, al lavoro, all'intrattenimento. Dalla condivisione, all'intrattenimento.